fanno corso i carti eccolo primo una terra una terra eccolo è morto oh merda santa di dio non ho placche però ok davide guarda c'è lì è stato a destra zero pure io di placca non ho una placca eh a me ok guarda di là guarda di qua assensore non c'è un cazzo fanno ingaggiare un bombardamento io però ho sganciato un bombardamento là in arrivo ok io sono qua dietro 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 di star nascosto per non farmi vedere non so sta casa qua ne abbiamo quattro davanti l'altro giù occhio l'ho fatto lì uno c'è anche le placche che cazzo oppure della casa no no aspetta c'è sono pronto aspetta c'è c'è l'abbiamo sul sensore sì c'è l'abbiamo sul sensore Davide c'è l'abbiamo sul sensore è una casa di fronte riesco da qua dietro sì dimmi quando sei fronte io in santa e me non mi fa uscire è qua a sinistra c4 c4 al dutto è qua a sinistra fuori mi sa da la casa grandissimo esecuzione esecuzione bellissima vai 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 questo si butta e taglia la testa bellissimo bellissimo è importante partecipare ma qua la crisi finale è quello da fare è quella crisi finale è quello che dice guardate MVP mi hai detto è quello che dice Grazie a tutti.